Triste sorte toccò alle sorelle Maria Teresa e Carmela di Genova. Secondo il comandante del 31esimo bersaglieri che la fece fucilare, Maria Teresa... Mi veniva già prima designata come quella che tenevasi in relazione coi briganti, fra i quali vi era un cognato e a cui provvedeva il bucato della lingeria. Gran brutto delitto, lavar mutande. La bocca spalancata come una prasera, la manco a bucora a strengere, con due portose, un fronte in galla e due feline di sangue fino a fino. Che impressione una morte. Peresina. La capa è vintatina, la monella è scurciata in coppa di sangue, la vasta è diventata. E' a piombo dove va, io vivendo adesso. E' incoppa la montagna, solida da Melina. E' incoppa la montagna, non bella lacrime in gallo occhio. Ma io se la scuppetta. E' allucca il cielo. Ma non ci stanno in cari porto! Ananza ti ha passato, l'esperato. Ananza a sto fucilo. Che dà coppa. Ananza a sto fucilo. Ananza a sto fucilo. Ananza a sto fucilo. Grazie a tutti.